Se sei in crisi o hai vissuto una crisi davvero profonda, questo video può farti prendere delle consapevolezze veramente importanti. E poi, se alla fine del video prenderai una decisione, questo video può addirittura trasformare e cambiare completamente la tua vita. Ricordati sempre che quando vivi una crisi non ti devi accontentare semplicemente di spegnere la sofferenza o di far passare la crisi. Puoi approfittare dell'opportunità di alzare la qualità della tua vita e prendere in mano davvero la tua vita. Questo video fa parte della playlist del benessere mentale ed emozionale, che fanno parte di questo progetto straordinario che è la Wellness University. Un progetto che dura un anno, che ti trasformerà il tuo anno nel miglior anno della tua vita. Lavorando su 5 aree del benessere. Benessere fisico, mentale, emozionale, relazionale e finanziario. Questo sarà un video importante. Guardalo e io ti consiglio di anche riguardarlo e prendere degli appunti. Esistono tante tipologie di crisi diverse. Esistono delle crisi tangibili, come una crisi economica, finanziaria, personale, una crisi lavorativa. Ma esistono anche delle crisi non tangibili, come le crisi delle relazioni, relazioni tossiche, relazioni tossiche anche tra amici. Ma anche crisi personali o addirittura una crisi di identità. E alzi la mano chi non ha provato almeno una volta nella vita una crisi di identità. Io, tre impattanti. Quindi ben tre crisi di identità in solo i 47 anni di vita. Ma in ogni crisi che cosa accade? Soffriamo. Eh sì, ogni crisi porta a una forte sofferenza. Abbiamo una sensazione di insoddisfazione. Capiamo che la vita che stiamo vivendo non è quella che vogliamo vivere. Non è assolutamente quella che vogliamo vivere. Il primo istinto è quello di toglierci completamente il dolore, di anestetizzare quella sofferenza. Purtroppo anche con strumenti improduttivi o disastrosi come buttarsi nel cibo, buttarsi nell'alcol, fare acquisti compulsivi, creare relazioni tossiche, agganciarsi a delle persone con relazioni di dipendenza semplicemente perché siamo in crisi. E ovviamente tutto questo peggiora solo la situazione. Perché non ci fa affrontare la crisi e non ce la fa risolvere. Quelle persone che invece affrontano la crisi, nel pensiero comune, cercano di far passare la crisi. Ma non deve passare il tempo per essere felice. Io lo so, nella crisi c'è sofferenza. Ma non è che deve passare il tempo, perché ogni giorno è un dono divino. Ogni giorno è qualcosa di straordinario che non tornerà mai più indietro. C'è una verità risolutiva, c'è una verità straordinaria all'interno di tutto ciò. E la verità è che in ogni crisi c'è sempre un'opportunità potenziale. Non un'opportunità semplice o visibile. Un'opportunità potenziale. E per farti capire cosa significa l'opportunità potenziale, sfruttiamo proprio la definizione della fisica. Questa pallina potenzialmente cade a terra. Ha un'energia potenziale dovuta ovviamente alla forza gravitazionale. Ma perché non soddisfa la sua energia potenziale? Perché non coglie l'opportunità potenziale della pallina? Perché c'è una limitazione, in questo caso la mia mano. Questa limitazione non permette alla pallina di soddisfare la sua opportunità potenziale. Quindi soddisfare la sua energia potenziale. Ma se io tolgo la limitazione cosa accade? Che l'energia potenziale diventa energia reale. Ora nella nostra vita è la stessa cosa. Durante una crisi noi abbiamo delle opportunità potenziali. E qualcuna veramente impattante che ci può permettere di alzare tantissimo il livello di soddisfazione nella nostra vita. Però perché non la vediamo? Perché la dobbiamo andare a cercare? E perché non la cogliamo? Perché ci sono dei freni. Quelli che alla nostra mano, alla nostra metafora, sono dei freni, delle convinzioni comuni, il fatto che abbiamo i paraocchi, il fatto che siamo troppo concentrati sulla sofferenza, e soprattutto delle zavorre mentali, emozionali e relazionali che magari ci portiamo dentro con noi. Se vogliamo davvero cogliere quell'opportunità potenziale, dobbiamo, uno, innanzitutto, cercarla. Cercare qual è la vera opportunità. Due, trovarla. Tre, coglierla. Cioè fare delle azioni pratiche per cogliere quell'opportunità potenziale. E poi alimentarla, alimentarla, alimentarla. Quando sei in crisi non ti accontentare di solo di risolvere quella sofferenza del momento, ma punta in alto. Punta ad alzare la qualità della tua vita. In modo tale che la tua vita dopo della crisi deve essere qualitativamente molto più alta della tua vita prima della crisi, quando le cose andavano bene. E per fare questo devi approfittare di quella crisi per trovare le opportunità potenziali e di sviluppare nuove abilità. E ti racconto una cosa mia personale. Durante il primo lockdown, il mio business model come mental coach crollò completamente. Io mi occupavo soprattutto di sport. E l'80% del mio incassato scomparve. Puff! Con quel 20% io non ci campavo manco la famiglia. Dopo i primi giorni di fortissima destabilizzazione, ho iniziato a pormi una domanda. Una domanda che ha cambiato completamente la mia vita. O meglio. La domanda ha indirizzato il focus. Ma la mia vita l'ho cambiata perché io mi sono messo lì a cercare risposte, risposte, fin quando non è arrivata una risposta che ha cambiato davvero il tutto. E la domanda era qual è la mia personale opportunità in questa situazione? Qual è la mia personale opportunità? Io non volevo semplicemente sopravvivere in quella situazione. Volevo alzare totalmente il livello della mia vita. Non volevo mai più mettermi in una situazione dove un cambio esterno alle mie decisioni potesse incidere così tanto sul benessere mio e della mia famiglia. Qual è la mia personale opportunità? All'inizio non sono arrivate risposte chissà che importanti. Anzi, non sono arrivato proprio risposte. Dopo 4-5 giorni qualche risposta buona è arrivata. Dopo 7-8 giorni sono arrivati quelle 2-3 risposte che hanno cambiato completamente il mondo vincicolamente. La cosa straordinaria è che la risposta che mi è arrivata mi è arrivata quando mi sono reso conto che avevo molto più tempo e potevo sfruttare davvero le mie competenze. E lì sono nati tutti i corsi online. Ho alzato la qualità del canale YouTube facendo una crescita straordinaria e costruendo un percorso che è l'Accademia per Diventare Mental Coach che è unica in Italia per il modello e soprattutto per la formula del mentoring. E i coach formati con il modello vincicolamente hanno un livello veramente altissimo proprio perché è l'unica in Italia che si utilizza il mentoring dove io in prima persona mi occupo della trasformazione della persona. E questa cosa è stata creata nel momento di crisi maggiore dal punto di vista lavorativo che ho vissuto negli ultimi 10 anni. Questo per far capire che le crisi a volte hanno delle opportunità potenziali pazzesche ma devi prendere in mano la situazione, devi prendere in mano proprio la tua vita e devi approfittarne. E se approfitti di quella crisi puoi alzare la qualità straordinaria della tua vita. Alla fine della crisi, quindi alla fine dei lockdown la qualità del mio lavoro è migliorata di 3-4 volte rispetto a quella prima del lockdown. Ma ho vissuto uno dei momenti più destabilizzanti a livello lavorativo degli ultimi 10 anni. Chiudo questo video abbastanza complesso con un'esortazione. Prendi una decisione. Prendi una decisione. Vai a trovare quelle che sono le tue opportunità potenziali ma devi andare in maniera attiva a cercarle. Ti devi porre spesso queste domande finché non trovi qualcosa di veramente valido per te. Ci vuole un giorno, 5 giorni, un mese, indifferentemente. Ma vatti a cercare la tua opportunità personale e poi coglila. Coglila in maniera attiva. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.